Ciao a tutti, sono Francesco Ferreri da Total Guitar Academy e vi presento il mio nuovo libro dedicato alla chitarra ritmica heavy metal, nel genere heavy metal in questo libro troverete moltissimi esercizi con varie differenti figure ritmiche ottavi, sedicesimi, combinazioni di questi, terzine, esercizi con accordature differenti, drop D e riff, i riff metal che sono la colonna portante dei brani fondamentalmente troverete più di 60 file audio da poter scaricare sul vostro computer con le relative tracce tempo per potervi esercitare spero che vi possa interessare, ci vediamo alla prossima, ciao!